Prima i lampioni spenti, poi accesi anche di giorno. Continuano i problemi legati al malfunzionamento dell'illuminazione pubblica nel quadrante compreso tra via Luciano Laurenzi e via Luigi Adriano Milani ad Ostia Antica. Circa due settimane fa, dopo nostro servizio, i tecnici a CEA hanno effettuato un intervento per il ripristino della luce. Una volta sul posto hanno fatto sapere che il guasto al contatore è legato alla presenza di un formicaio. La causa del guasto si è capita, voi adesso siete in attesa di interventi? Interventi che devono essere immediati, anche perché si parla tanto di risparmio energetico. Adesso che le luci siano accese 24 ore su 24 mi sembra uno spreco d'energia, paga il cittadino. Io dico o alle forze politiche o a quelli della CEA, se c'è da fare una disinfestazione, che questa disinfestazione sia immediata, non che si aspettano mesi. Qui è un assurdo, proprio l'assurdo degli assurdi. Allora, diciamo, voi del comitato di quartiere o dei cittadini che abitate lì, fatela voi. La facciamo pure noi, perché le varie formiche poi vengono a riparare il guasto. Anche perché prima è il disagio con due settimane completamente al buio. Adesso sono due settimane con i lampioni accesi H24, sembra quasi una presa in giro. Ma proprio per questo. Cioè, chi deve mettere mano a questo? Qui è pieno dei formiche. La luce H24 accesa oramai sono più di 15 giorni. Non so chi aspetta, se la CEA o il municipio. Naturalmente la disinfestazione dovrebbe essere urgente, perché non è possibile che qui sia avanti un mese con le luci accese tutto il quadrante. Qui o si fanno le cose come si dovrebbe fare, perché altrimenti non è regolare. Tra l'altro la presenza di tutte queste formiche è un disagio anche per chi passeggia, cammina qui. Sì, perché c'è dei bambini che si mette a giocare col pallone, ti metti seduto, e va le formiche da tutte le parti, e allora non è possibile. E poi c'è un spreco di allergia che è una cosa assurda. Quindi chiedete un intervento? Chiediamo un intervento perché abbiamo passato parecchi giorni.